Buonasera a tutti. È un piacere introdurvi. Mi chiamo Fabio Bacchini dell'Istat, sono responsabile della divisione per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale. Qui introduco questa chiacchierata con Dario Buono, che è team leader della metodologia per le statistiche ufficiali ad Eurostat, con il quale abbiamo una lunga conoscenza. Il tema di oggi è particolarmente interessante perché proviamo a capire, anzi Dario proverà a spiegarci, quali possono essere le competenze necessarie per gli statistici per il prossimo futuro, per la prossima generazione di statistici. Io prima di entrare proprio nel focus dell'argomento chiederei un po' a Dario di qualcosa sul passato, prima di predire il futuro. In particolare gli chiederei, data la sua lunga esperienza ad Eurostat, quali sono stati i passi principali realizzati, sia dal punto di vista della condivisione delle metodologie, sia dal punto di vista delle statistiche sperimentali. Sono due gambe abbastanza importanti di quello che è stato realizzato finora. Grazie Fabio e soprattutto grazie a Lissat per avermi invitato, per me è un vero onore poter partecipare oggi a questo convegno, soprattutto è un onore, è la prima volta che partecipo a un convegno in italiano, anzi io direi più che in italiano, in napoletano, quindi soprattutto se ci sono domande anche in napoletano sono bene accette. Fabio e noi ci conosciamo da tantissimo tempo, io ho iniziato a Eurostat nei conti nazionali come esperto in analisi delle serie storiche, dove ho lavorato sulle altre frequenze, come se è su quella che è la destagionalizzazione, che è di nuovo tanto di moda, soprattutto in questi tempi di pandemia. Con questi fenomeni stagionali che si ripetono e che ci fanno venire in mente che forse questo lavoro che noi conduciamo da vent'anni forse ha un senso perché ci aiuta non solo a identificare le dinamiche, ma anche a prevederle nella loro stagionalità. Come si insomma vedendo che le pandemie sono piuttosto stagionali nel primo trimestre ogni anno. Ma a parte questo, il discorso che volevo fare oggi con voi è soprattutto focalizzato insieme a quella che è la nuova mia passione, cioè cercare di capire quali siano le competenze necessarie per la nuova generazione di statistici. Ci sono varie attività che abbiamo intrapreso da Eurostat alla ricerca di questo famoso data scientist, e una delle quali per esempio è il lavoro che facciamo con Emos, European Master in Official Statistics, è un label che abbiamo dato a una trentina di università in tutta Europa, dove cerchiamo di avviare giovani studenti di statistica a lavorare e studiare le official statistics in modo, cioè con un profilo nuovo, non necessariamente quello dello statistico classico, ma quello del data scientist. Cosa vuol dire data scientist? Una persona che ha varie competenze, non necessariamente quelle strettamente statistiche, cioè quelle devono esistere e fanno parte della componente matematica e statistica, e quindi c'è un investimento che noi facciamo in questi corsi in machine learning, ma anche e soprattutto nella programmazione, quindi anche un po' la componente informatica, come i linguaggi di programmazione moderni che partono da R, linguaggio ormai quasi obsoleto, ma attraversano soprattutto Python e c'è il nuovo linguaggio che è anche quello di Julia. Quindi gli studenti Emos sono esposti a queste nuove competenze che secondo noi sono quelle che nel futuro serviranno sempre di più alla nuova generazione di statistici per avere in qualche modo di fronte a noi i cosiddetti data scientist. Dario, una cosa su questo, perché è molto importante. Uno, la parte di Emos, perché come Istat noi poi facciamo l'altra parte di coordinamento, nel senso che molti degli studenti, ad esempio, ovviamente, vengono poi, ci contattano, perché noi con il nostro sistema di tutoraggio mettiamo online, mettiamo a disposizione dei tutor che sono dei programmi di ricerca che sono quasi sempre collegati ai master Emos. Quindi questa è un'iniziativa di raccordo molto interessante. L'altra cosa che volevo chiederti è sulla parte di programmazione. Ad esempio, noi in Istat abbiamo una forte tradizione SAS e adesso stiamo, da un po' di anni, stiamo facendo sia corsi di formazione sia sviluppando delle parti di programma in R. Tu hai parlato di R, Python, Julia. Qual è la tua percezione? Cioè, qual è al momento la parte dominante? Quali dei tre dominanti in Eurostat e quali ritieni possa essere dominante nel futuro? Per quello che è la mia modesta opinione, prima di tutto una parola su Emos. Su Emos stiamo facendo uno sforzo in particolare ed è molto importante il raccordo che gli uffici statistici fanno nel raccogliere anche durante dei train ship i ragazzi, perché possono spendere un periodo di 6-8 settimane presso l'ufficio statistico. La novità che ci sarà dall'anno prossimo è che i train ship, gli stage, saranno pagati, coperti, da una somma grande che è anche compatibile con quella eventuale di un programma Erasmus. Questa è una piccola novità che volevo annunciare, mi fa piacere annunciarla soprattutto in questa sede per gli anni a succedere. Abbiamo già una piattaforma dove si possono trovare i primi scambi, dove gli studenti possono andare, magari poi ne parliamo a parte. Per quanto riguarda la programmazione, Fabio, tu mi insegni che chiunque ha saputo programmare in MATLAB cosa ora sa programmare in R. È un'evoluzione... Io non credo che sia veramente importante il quale sia il linguaggio... Non esiste, secondo me, un linguaggio migliore di un altro. Quello che è importante è la comunità che si sviluppa intorno al linguaggio e il fatto che il linguaggio utilizzato sia soprattutto aperto. Aperto nel senso che le fonti sono condivise. Da questo punto di vista mi sembra di capire che R, Python e Julia, in quanto linguaggio aperti, abbiano un vantaggio rispetto ad altri linguaggi di programmazione, quale SAS, che rimane un po' chiuso, laddove il supporto nel caso di problemi tecnici viene non necessariamente dalla comunità, ma viene da una soluzione di tipo commerciale. Questa è un po' la mia idea. Quindi al momento quello che vedo molto 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 forte è Python, onestamente. Noi abbiamo lanciato all'interno dei nuovi corsi STP, l'European Statistical Training Program, per gli anni successivi, cinque nuove corsi su Python che sono già pieni, hanno un liste di attese già più che piene, perché la comunità che esiste intorno a Python è di per sé il nuovo linguaggio. Quindi, come dire, sono le persone che ci sono intorno che fanno la lingua. Mi sembra di capire che ci siano delle domande dalla chat, magari le prendiamo dopo. Fabio, non so che idea abbia. Non lo so perché, allora, fammi vedere... Vedo Paola Muccitelli che ha la mano alzata. Sì, penso che possiamo ospitare tranquillamente domande. Quindi molto molto volentieri. Fammi vedere... Perché io non riesco a vederle da qui, però va bene. Sì, Paola, se hai una domanda, molto volentieri. Forse era una mano alzata di saluto. Proviamo a continuare. Una cosa che ti volevo chiedere, sempre per fare questa cosa, le comparazioni dei linguaggi. Se ti sembra... Ok. Non possiamo abilitare le persone a chattare. Ok, scusateci. Una cosa che volevo chiederti. Se ti sembra, ad esempio, che R sia un po' più utilizzato dagli statistici e Python un po' più dagli statistici barra informatici, e poi invece sulla parte di Emos, sicuramente mi sembra un'ottima iniziativa. Cioè la possibilità di... Noi, per la nostra esperienza, abbiamo trovato degli studenti veramente molto, ma molto preparati. Quindi cercare di fargli, di assisterli anche un po' di più nella parte di formazione mi sembra una splendida iniziativa. L'altra domanda che ti chiedo è se, secondo te, i diversi programmi si portano dietro anche investigazioni, analisi differenti. Cioè con R ci faccio, ad esempio, machine learning, oppure machine learning lo faccio con Python. E se, nell'ambito di questi approfondimenti, sui programmi, che cosa di questi programmi viene poi a importanza per migliorare la diffusione, sia sul web, sia sui prodotti tradizionali? Ok, io ci vedo una forma di concatenamento, nel senso che l'utilizzatore tipico di SAS vede subito un grande vantaggio nel passare ad R per automatizzare tutta una serie di cose dal testo di una pubblicazione fino all'infografico di una pubblicazione, un passaggio che viene naturale. Però vedo un passaggio ancora più naturale che è quello dell'utilizzatore di R che passa ancora più velocemente a Python perché ne vede la forza computazionale soprattutto per quanto riguarda i famosi dati non strutturati, quelli che in passato erano chiamati big data. Ogni volta che si va alla ricerca di una di un'analisi che è data-driven, piuttosto che si parte con una domanda prestabilita, mi sembra che lì Python poi sia la vera forza. mentre con R l'algoritmo è ancora un po' in mente, cioè c'è ancora un po' la domanda nella testa dello statistico e poi si trova la risposta, mi sembra di capire che con Python è più facile trovare domande all'interno di dataset, domande che magari all'inizio non erano presenti. E quindi in questa fase, soprattutto se vuoi andare verso il random forest o il machine learning, mi sembra di capire che Python diventi molto più potente soprattutto dal punto di vista computazionale. Poi tu mi dicevi questa differenza tra lo statistico e l'informatico, ma io questa differenza in realtà non mi sembra che sia veramente esista perché tutti siamo statistici, tutti siamo informatici, o se vuoi tutti siamo scienziati dei dati. È una differenza che vedo sempre di più a sottigliarsi e questa è ancora più vera, se vuoi, adesso vedo che non è collegata, sì adesso vedo che è collegato che è Cristiano Testitore, noi abbiamo lanciato un piccolissimo progetto, un'idea di blockchain official statistics, come il blockchain può essere utilizzato nel settore dell'ufficio statistico. Lì è evidente che si parte con Python direttamente e il potere computazionale della funzione hashtag è immediatamente enorme, quindi diventa un punto di partenza a partire con Python. Quello che non ho ancora visto molto all'opera è Giulia, e sarei molto curioso di vederlo funzionare o di sapere in qualche modo come funzioni. Per quanto riguarda poi questo famoso profilo di data scientist, ci sono altre componenti che non sono semplicemente hard, cioè l'abbiamo detto, queste che si focalizzano sulla parte matematica, sulla parte statistica, sulla parte di programmazione, sulla parte database, ma è soprattutto molto importante, secondo me, almeno per quello che ho visto, di essere curiosi. Cioè, il o la data scientist è una persona di natura curiosa, che va alla ricerca, che parte con una domanda, trova tre risposte, e dopo tre risposte ne trova altre quattro domande, e poi quindi arriva a quindici risposte, e continua a ragionare così, con quello che è un po' il mindset di un hacker, che è alla ricerca di domande e risposte che non siano necessariamente poi chiuse. e quello che mi sembra di capire, cioè, quindi poi, come dire, volendo un po' chiudere il cerchio, che non si, il vero data scientist non è semplicemente una persona che ha delle competenze hard, ma anche delle competenze soft, quindi una persona anche curiosa, una persona multitasking, una persona poi che tra l'altro è capace di comunicare e spiegare semplicemente agli altri quello che ha capito e il potenziale a cui è di fronte. Se mi permetti, Fabio, come osservazione, mi sembra di capire, mi sembra di vedere, che sia più facile trovare una data scientist che sia donna piuttosto che sia uomo, piuttosto che sia uomo, soprattutto per questa attitudine al multitasking e soprattutto per il valore aggiunto che ha l'essere curioso o curiosa dal momento in cui si trova qualcosa che non ci si aspettava di trovare. Questa riflessione sul gender è particolare, sì, è possibilissimo, cioè è veramente possibile. Una cosa che invece volevo chiederti era, abbiamo parlato adesso dell'interazione tra Eurostat e università attraverso Emos, però un'altra cosa che tu organizzi egregiamente, che hai organizzato egregiamente, penso continuerai, è il convegno, quello NTTS. E quello apre un'altra porta, diciamo, di comunicazione tra statistica ufficiale e Accademia. come si sono evoluti i rapporti? come vedi questo tipo di collaborazione dal lato di Eurostat? Allora, questa, diciamo, NTTS è di per sé, almeno, io ne ho organizzate due edizioni, ne sono state fatte 20, ne ho organizzate due, che erano completamente diverse. quella 2019 era l'edizione classica fatta nel palazzo con mille persone che parlano e giocano e si divertono e che non vogliono mai andare a casa e che discutono di statistica anche alle tre di notte nel pub irlandese fuori di Berlio Amor. Quella dell'anno scorso quella era stata un'edizione che aveva portato comunque mille persone a Bruxelles con un certo tipo di interazione. Quella del 2021 è stata un'edizione completamente diversa per motivi della pandemia dove però siamo riusciti comunque a garantire una certa interazione abbiamo triplicato il numero di partecipanti e di contatti quindi da mille siamo arrivati a tremila. Per quanto riguarda l'edizione 23 come sarà? Chi lo può dire? Come sarà? Io la immagino come una versione ibrida una versione con il palazzo pieno soprattutto in sicurezza per quelle che saranno le condizioni al momento dove almeno gli speaker gli organizzatori delle sessioni saranno presenti in loco perché comunque il valore aggiunto della presenza umana e del contatto umano è da non sottovalutare però comunque sarà streamlined sarà streamlined in tutte le sessioni che saranno in parallelo forse sarà probabilmente più corta non sarà sui cinque giorni durerà sui tre e la vera se vuoi novità delle novità è che non ci sarà un argomento tipico non ci sarà un argomento l'argomento l'argomento è New Techniques e Technology for Statistics che per noi è l'argomento di quella conferenza che è un filone suo indipendente al momento stiamo lavorando sul comitato scientifico che in parte verrà come tradizione una metà rimangono gli stessi una metà sono nuovi saranno nuovi quindi siamo in questa fase al momento le sale sono quasi prenotate vedo tra qui nell'audience vedo anche persone che sono direttamente coinvolte nell'organizzazione e per il resto vedremo io credo che quello che ci sarà sicuramente poi ci saranno delle piccole sorprese per quanto riguarda la Agathon che è l'evento associato al che ha visto lì stata nell'ultima partecipazione anche vincente anche vincente anche vincente anche fin troppo vincente anche fin troppo vincente stiamo pensando a delle nuove modalità soprattutto per andare un po' oltre la dimensione europea dell'Agathon che è attualmente europea big data Agathon stiamo cercando di andare un po' oltre questa dimensione ci sono delle possibili cooperazioni anche con altre università americane che ci hanno aiutato anche in passato quindi non non mi fare dire troppo però per chi ha seguito le edizioni precedenti si può immaginare che ci saranno delle collaborazioni con le università americane anche per quanto riguarda l'Agathon e per quanto riguarda le donne in particolare c'è un evento che si chiama Women Data Science che viene organizzato a Stanford che potrebbe essere ospite da noi con una sessione dedicata per le donne che lavorano in data science molto bello una cosa che volevo chiederti ed è una curiosità sulla quale stiamo riflettendo in Italia di questi giorni è le risorse per la statistica cioè come sai il Recovery Resilience Fund ha tutta una procedura dietro di monitoraggio quindi volevo chiederti se Eurostat in qualche misura viene coinvolta in questa procedura e se si come e eventualmente invece se l'approvazione del piano in qualche maniera permette di avere anche dei fondi per Eurostat da utilizzare per intervenire su alcuni aspetti magari su alcuni gap informativi relativi ad alcune misure del piano Allora questa domanda caro Fabio avresti dovuto farla al mio predecessore che è il direttore delle risorse il direttore l'egreggio l'egreggio egregissimo Emanuele Baldacci sulla quale io come dire quello che ti posso assicurare che noi cerchiamo tutto il budget che ci viene assegnato cerchiamo di spenderlo ogni anno nel miglior modo possibile rispetto al Recovery Fund non abbiamo un link diretto almeno che io sappia però è comunque nel totale il budget che viene assegnato Eurostat per la statistica è molto limitato rispetto a quello che viene dato alle altre DG giustamente a mio parere quindi su questa domanda sulle risorse io glisserei va bene va bene quindi però da quello che dici non sembra esserci un pazzesco aumento delle risorse come abbiamo lo stesso problema in Italia al momento quindi l'aumento delle risorse il problema non è tanto l'aumento o la diminuzione secondo me il problema è cosa ci fa con le risorse con gli effetti moltiplicatori che hai ad esempio io sono sicuro che il piccolo investimento che noi adesso facciamo nei train ship per Ramos quello potrebbe essere un moltiplicatore per per avere per avere più studenti che che parteciperanno in quella direzione gli investimenti la maggior parte abbiamo raddoppiato il numero di corsi di formazione di STP per l'anno prossimo da 50 ce ne saranno 100 di cui solo 5 5 volte ripetiamo il corso di Python cioè noi tutto quello che abbiamo a disposizione lo stiamo investendo e lo investiamo in formazione in ricerca in innovazione in nuove tecnologie abbiamo anche un grande nuovo progetto sul web intelligence network su web scraping le risorse sono più o meno sempre le stesse però l'importante è come vengono spese questo è vero questo è vero e volevo chiederti invece un'altra cosa sulla diciamo sulla tua esperienza passata una sorta di giudizio visto che hai iniziato a lavorare sui big data anni fa ormai ma alla fine secondo te sono stati l'utilizzo dei big data che va dal web scraping ai twitter qual è la tua valutazione cioè tanto rumor per nulla oppure è roba veramente interessante permette comunque se opportunamente trattata di migliorare l'informazione statistica soprattutto in termini di tempestività il big data ha dato un valore aggiunto enorme secondo me alla statistica in generale ma per un motivo diverso secondo me secondo la mia opinione ma per un motivo diverso cioè il fatto che esistessero dati non strutturati era una cosa di cui eravamo già a conoscenza quello di cui non avevamo a conoscenza che non avevamo inventato ancora la parola cioè la parola big data ha mosso così tanto denaro investito in statistica mai come prima mai come prima quindi da quel punto di vista è stato un successo di comunicazione enorme ed è un po' un peccato adesso che non venga più utilizzato come infatti è difficile trovare una che la sostituisca no? che la sostituisca così bene cioè mai come la parola big data l'abbiamo visto io l'ho vista associata pure in convegni big data e small area estimation cioè due argomenti che più diversi non potevano essere però pur di pur di come dire attrarre pubblico sono riuscite cioè quindi lì la cosa più importante che ho imparato dal big data è che quanto è importante sapere dare un nome giusto a una certa cosa che uno non conosce dal punto di vista del fatto che i dati non siano strutturati ha spinto tantissimo gli investimenti e infatti lo sviluppo è le nuove tecnologie di machine learning di coding di random forest che pure sono come dire non sono cose nuovissime esistono perché e vengono riapplicate perché sono perché i big data sui big data si è spinto tanto buono senti siamo verso la conclusione credo abbiamo ancora un paio di minuti e visto la come dire il tempo che tu hai passato in queste attività una domanda molto semplice ma tu adesso ti diverti di più ora o quando hai iniziato con le serie storiche Tramosiz Maraval Findlay e tutta quella gente lì oppure come dire cioè a me sembra adesso una fase un po' più forse effervescente è vero che abbiamo una veneranda età però mi appare effervescente rispetto a quella che ricordavo degli inizi quindi è ancora molto interessante e curiosa come dicevi tu beh io mi sono sempre divertito e mi diverto sempre mi divertivo di più forse vent'anni fa perché ero più giovane ma quindi riuscivo eravamo più giovani e mi divertivo di più ma mi diverto ancora tantissimo a fare questo lavoro che mi piace tantissimo e pure le persone che lavorano con me ne sono coscienti soprattutto quando facciamo cose nuove e pensiamo al futuro quindi potremmo chiudere dicendo per chi ci ascolta allora per il futuro se vale la nostra esperienza potete puntare su un lavoro che diverte nel corso del tempo almeno questa è stata la nostra esperienza e che soprattutto è da quello che tu hai detto è veramente ricchissimo di in termini evolutivi cioè quello che abbiamo che abbiamo iniziato a fare vent'anni fa anche complici le tecnologie che avevamo è così cambiato che è veramente mi sembra almeno a me essere parte del cambiamento tecnologico cioè viverlo giornalmente ed è una cosa estremamente interessante sicuramente Fabio io mi sto divertendo tantissimo anche ora in questo momento quindi è vero è vero allora io chiudo che così rispettiamo i tempi ringraziandoti veramente molto Dario perché questa chiacchierata che non riusciamo mai a fare se non la organizziamo così adesso non so se dobbiamo fare per la prossima conferenza lo speriamo prima è veramente a me è stata estremamente interessante perché mi fa capire anche che devo ricominciare a studiare python insomma che c'è ancora spazio per continuare a divertirci quindi ti ringrazio molto e spero che per gli ascoltatori sia stato interessante come lo è stato per me quindi grazie veramente tanto grazie a voi grazie a tutti grazie agli ascoltatori e soprattutto un grande ciao a Bob e a Nacone che ci ha seguito dall'inizio fino alla fine è vero è vero grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.